Coltibayer è la nuova app di Bayer Crop Science che rivoluziona il mondo dell'agricoltura. Con Coltibayer potrai trovare in modo facile e veloce tutte le informazioni che ti servono grazie alle diverse modalità di ricerca. Sai già quello che ti serve. Puoi utilizzare la ricerca libera. In pochi semplici passaggi potrai identificare il prodotto più adatto alle tue esigenze e scoprire di più sulle sue caratteristiche e sul suo utilizzo. Ma non finisce qui. Per ogni soluzione Coltibayer ti suggerirà altri prodotti utili per un utilizzo integrato, per ottenere il massimo dalle tue colture. Grazie alla ricerca libera potrai spaziare liberamente tra le soluzioni Bayer di genetica, protezione e digitale più adatte a te. Cosa aspetti? Entra anche tu nel mondo dell'agricoltura digitale. Scarica ora Coltibayer.